L'Expo cerca di parlare di un tema che è molto importante come il futuro del pianeta, come mangeremo, la fame nel mondo, insomma temi molto importanti. Secondo lei è più importante, più facile far passare certi messaggi con delle conferenze, con le parole di una conferenza o con delle installazioni, con delle scenografie, con un messaggio artistico? Decisamente il tema è fondamentale ed è universale, quello che mi è piaciuto moltissimo perché c'è già un vantaggio di comunicazione con tutto il mondo. Devo dire che quando si possono vedere dei messaggi realizzati tridimensionalmente, anche con video e anche con suoni e parole, devo dire che rimangono molto più nella mente. Quindi penso che uno spettacolo così completo come quello dell'Expo sia molto più efficace che non qualsiasi conferenza o libro o articolo. Ci sono dei padiglioni che hanno scelto come messaggio di utilizzare delle immagini shock come quelle di qualche bambino africano che soffre la fame. Ce ne sono altri che hanno cercato il linguaggio della bellezza come delle opere d'arte, come il padiglione della Santa Sede. Qual è secondo lei l'emozione migliore per far passare questi messaggi e che bisogna stimolare nei visitatori? Devo dire che il padiglione a cui lei si riferisce è quello coreano che penso fosse veramente eccezionale. Perché la parte del bambino che sta soffrendo della fame in Africa era in un contesto in cui si cercava di parlare del recupero di tradizioni, di cultura materiale. In particolare la Corea parlava della fermentazione come metodo per cercare di sfamare molte più persone al mondo. Quindi il bambino africano che sta morendo era secondo me certo uno strumento e un'immagine shock però era resa in maniera estremamente elegante e in un percorso intellettuale veramente importante. Quindi non saprei, la Santa Sede deve sapere che cosa può fare la Santa Sede. Penso che sia importante sapere chi si è. La Corea è la Corea, il Vaticano è il Vaticano e i messaggi sono diversi. Quindi in un certo senso forse ci si aspetterebbe dal Vaticano il bambino africano più che non Tiepolo. Però insomma è un modo per comunicare anche quello. Come direttrice del MoMA ci ripresenta super egregiamente nel mondo e siamo molto fieri di questo. Come si vede l'Italia oggi da lì e che ruolo può avere per la promozione del Made in Italy il food? Per cominciare vorrei chiarire che non sono la direttrice del MoMA, sono una curatrice di architettura e design, direttrice del Dipartimento di ricerca e sviluppo. L'Italia è sempre stimata estremamente nel mondo ed è sempre anche considerata in maniera realistica, quindi come un paese molto complesso. Il design che è prodotto in Italia, la creatività italiana, a me non piace usare quella M-I-I, preferisco non usarlo più perché è un motto del passato, ma la creatività italiana continua a farla da leone, a farla da padrona. Devo dire che non è soltanto la creatività tridimensionale di prodotti, ma anche quella digitale. Quello che secondo me è interessante è che a volte a New York si sa più di alcuni giovani designer che stanno facendo lavoro a un livello internazionale che non di quello che se ne sappia in Italia. Per cui sono contenta di poter fare da ponte, di poter far conoscere gli italiani ai new yorkesi e anche di poter far conoscere agli italiani che sono più conosciuti a New York. Cosa succederebbe e quanto bisogno c'è di un po' di più empowerment delle donne in Italia? Sei giovane italiana e probabilmente a New York si è riuscita a fare delle cose che in Italia avrebbe trovato più difficoltà a fare. È una domanda che apre un vaso di Pandora, quindi cercherò di comportarmi bene. La mia generazione è una generazione perduta perché è schiacciata da una società patriarcale e della generazione prima che ancora non si è mossa. Per cui aspetto la prossima generazione dove forse finalmente ci sarà un po' più di parità e un po' più di rispetto. In questo momento c'è ancora molto da fare. Sono stata carina? British. Molto British. Grazie.